Primi giorni di lavoro per il nuovo direttore del Dipartimento Tecnico dell'azienda ospedaliera universitaria senese, l'architetto Filippo Terzaghi. Terzaghi, nato a Livorno nel 1959, si è laureato in architettura nel 1989 al Politecnico di Milano e successivamente ha intrapreso una lunga carriera professionale sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato. Il benvenuto del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, Valtere Giovannini. Una competenza come l'architetto Filippo Terzaghi, e sottolineo le altre competenze che hanno rinforzato la nostra area tecnica, stiamo investendo molto, devo dire, su questo aspetto e che ci crediamo. Sappiamo che la casa per i nostri malati e in particolare la casa dei nostri professionisti è importante, se non fondamentale, anche al successo delle cure. È una sfida importante, l'ospedale per questa città, ma soprattutto per l'azienda ospedale universitaria, ha necessità di un suo progetto di una sua conferma o di un suo ridisegno e devo dire che questo architetto Terzaghi rappresenta la competenza assolutamente sicura, forte, che in questo ci potrà accompagnare. In questo senso dico che ci rasserena averlo con noi per i prossimi anni. Discuteremo con lui, appena sarà fatta un'idea del nostro ospedale, ragioneremo insieme al nostro rettore, alla regione, alla città, per capire davvero quale possa essere le risorse necessarie. L'ospedale tutti lo vediamo, indipendentemente dal giudizio estetico che ne possiamo dare, ma in realtà è un ospedale che ha bisogno davvero di un grande progetto, devo dire, di ristrutturazione, di riflessione e di pensiero. Terzaghi è stato direttore responsabile del Servizio di Lavori Pubblici del Comune di Novate Milanese, nonché consigliere di amministrazione e componente del Comitato di Presidenza del Consorzio dell'Adda, su nomina del Ministero dell'Ambiente. Dalla 2001 alla 2006 ha lavorato con la Pirelli, prima come consulente dell'Asset Management Pubblica Utilità, poi come direttore tecnico del Consorzio Stabile Pirelli Re Servizi. Dal 2007 ha poi coperto il ruolo di direttore del Dipartimento Tecnico della UOC Programmazione e Monitoraggio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. È membro del Consiglio Nazionale della SIAIS, Società Italiana Architetti e Ingegneri della Sanità, ed esperto del NARZ presso il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio. Queste le prime parole dell'architetto Terzaghi da neodirettore del Dipartimento Tecnico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senesi. Devo dire che ho trovato persone di varia competenza, su vari argomenti diversi e di interessanti profili. Quello che sicuramente ho rilevato è che per quanto riguarda la mia area, quindi il Dipartimento Tecnico, c'è una carenza importante dal punto di vista organizzativo ed è quello su cui intendo immediatamente intervenire perché nel nostro lavoro i risultati si vedono, soprattutto se il metodo e le responsabilità sono molto chiare. Tant'è che abbiamo già cominciato subito a fare un primo incontro, il Direttore Sanitario ha indetto un nuovo tavolo esecutivo che è proprio il tavolo che affronta i problemi immediati. Quindi ci sono tre livelli. Noi dobbiamo affrontare sfide di tutti i giorni per migliorare la sicurezza, l'efficacia, ma anche l'estetica. E poi altri livelli, il livello dell'ascolto, quindi istituzionare anche questo tipo di cosa, l'ascolto verso il basso, cioè noi intendiamo istituire un'altra commissione che regolarizzi anche questo tipo di richiesta di interventi e poi invece il programma di medio e lungo termine che viene fatto con la direzione per decidere e attuare un programma di riordino dell'intero presidio ospedaliero. Io sono convinto che quando si ha un buon progetto le risorse poi si trovano e sappiamo che è un momento delicato questo dal punto di vista delle risorse, però se con la direzione noi riusciremo ad avere un progetto dal punto di vista sanitario ma anche organizzativo, credibile e condiviso con i professionisti, e questa è la cosa importante, credo che riusciremo a fare quello che Siena si aspetta, cioè avere un grande ospedale d'eccellenza che sia all'altezza della fama che ha. Grazie.